Perché poi di solito io ho sempre fatto, ho lavorato, ho lavorato tanto insieme ai docenti, però ce lo siamo tenuti sempre per noi, perché comunque noi lo facciamo perché è il nostro lavoro, ma non per sede di protagonismo. Però poi ecco, siccome ci troviamo adesso in un periodo dove chiaramente il presepe sta diventando un po' come se fosse qualcosa di cui vergognarsi, e allora quando i genitori mi hanno proposto questa cosa ho detto che ben venga, assolutissimamente, quindi va bene così. Giddy up, jingle horse, pick up your feet, jingle around the clock, mix and a mingle in the jingle and beat, that's the jingle bell rock. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock, jingle bell chime and jingle bell tap. Noi dobbiamo fare in modo che veramente in quelle persone dove la tradizione ormai non ha più valore, non ha più senso, dove vengono sminuite le proprie tradizioni, le proprie radici, allora a questo punto dobbiamo farle emergere, perché prima il nostro e poi chiaramente la comprensione anche per gli altri, però in un secondo momento. Giddy up, jingle horse, pick up your feet, jingle around the clock, mix and a mingle in the jingle and beat. Molto spesso si fanno dei lavori di gruppo all'interno della stessa classe, ma anche per classi, classi parallele, in verticale, perché proprio noi pensiamo che la scuola sia una comunità, quindi non è che possiamo legarci alla classe, all'insegnante, alle proprie cose, dove chiaramente questa era una cosa del passato, però con una scuola moderna dove tutti conoscono di tutto, ecco è importante che ci sia una coesione, ci sia una condivisione, ci sia naturalmente qualcosa che i ragazzi possano sapere anche degli altri, cioè questo interfacciarsi anche delle altre classi, quindi questo è un fatto positivo. Grazie. 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 su cui lavoro, l'integrazione scuola, famiglia, territorio, agenzie territoriali, perché per formare il ragazzo nella sua completezza, il ragazzo ha bisogno di tutte queste componenti. Noi non siamo più autoreferenziali, non possiamo chiuderci nel nostro cantuccio, nel nostro officello, abbiamo bisogno necessariamente di tante professionalità, di tante risorse umane e solamente in questo modo possiamo raggiungere il nostro obiettivo. Grazie per la visione